Io mi auguro che il Torino faccia sempre e comunque un gol più degli altri, anche se alcune volte dovrà fare forte di cose. Rete da parte del Torino e ha segnato Dossena che ha inzaccato in un diagonale, la palla aveva scavalcato i difensori e Dossena dal vertice superiore del rettangolo dell'area di porta ha battuto Tacconi con un secco diagonale, nulla da fare per l'estremo difensore della Juventus e è passato in vantaggio il Torino al comunale al quattordicesimo minuto di gioco del secondo tempo. Non arriva Tevez, non arriva Pogba, arriva invece Bruno Perez che può provare a partire, prende in velocità e vra, occhio alla corsa di Bruno Perez che se ne va, fino in fondo ci sono guagliarelle a Mauri, prova col destro, un gol su gol pazzesco, un gol pazzesco di Perez. Per un caso, chi lo sa, una speranzella ce la coviamo tutti, ma vincere il campionato potrebbe crollare Torino, mi auguro. Torino, 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 Torino modo di affrontare con più agio in quello che è l'appuntamento dei tre punti con un solo punto quella che è stata la stagione successiva alla vittoria dello Scudetto. Quindi con Lunario Granate, migliori anni della nostra vita, questa sera parliamo della stagione 1976-1977. Personalmente è forse la stagione che ricordo meglio di quel decennio, nel senso che è la stagione di cui ho una serie più lunga di ricordi nitidi, di momenti particolari, è una stagione che merita di essere raccontata e merita di essere ricordata al pari di quella precedente come probabilmente a pari merito la più straordinaria del decennio. Sì perché penso che gli annali e la storia la conosciate tutti. Quella fu una stagione per certi aspetti maledetta ma una stagione così particolare è giocata a così alto livello come poi non se ne sono più ripetute almeno nell'era del calcio quando le vittorie valevano due punti. La vittoria finale andò alla Juventus che fece un punto in più del Torino che finì secondo, punto distanziato di una lunghezza, con 50 punti ma non era soltanto il punteggio straordinario che si riuscì a fare. Il Torino arrivò secondo ed è per le statistiche un avvenimento che non successe, non era mai successo prima e non successe mai più dopo. arrivò il secondo con il migliore attacco, la miglior difesa e il capocannoniere. Quindi numeri eccezionali, numeri d'eccezione che però non bastarono. Ma andiamo con ordine come nostra abitudine, un'abitudine che abbiamo tralasciato soltanto per il 75-76 l'anno dello scudetto, ma come nostra abitudine insieme ai fatti di campo, insieme alle storie di Toro, diamo prima di tutto un'occhiata a com'era il mondo e che cosa succedeva e a come succedeva in quella stagione. Prendiamo il secondo anno, il 1977, come paradigma e andiamo un po' a scorrere quello che successe, qual era lo spirito del tempo. Il 1977 è stato un anno difficile per l'Italia. È stato un anno caratterizzato da un grande malessere sociale, un anno ricco di eventi spesso tragici, legati soprattutto ad episodi di violenza e di terrorismo. Io nel 1977, alla fine dell'anno, sono della fine novembre, avrei compiuto 18 anni e come mi ricordo bene la stagione calcistica, mi ricordo bene quei 18 anni, che cosa succedeva intorno a me in quell'epoca. A febbraio, ad esempio, esplode la protesta del movimento studentesco che prese le mosse dalla protesta contro la riforma scolastica del ministro Malfatti. All'Università di Roma scoppiarono scontri e violenze. Successivamente, durante un'altra manifestazione a Bologna, viene ucciso lo studente Francesco Lorusso. E ancora, durante gli scontri che continuano in città, le forze dell'ordine fanno irruzione nei locali di Radio Alice, imponendo la fine delle trasmissioni. A maggio, poi, perde la vita Giorgiana Masi. Durante un corteo radicale, dove avvengono degli scontri violenti con gli infiltrati della polizia, tra i manifestanti, colpi di pistola, pallotto alle vaganti, ci scappa il mostro. Si verificano, oltretutto, anche attentati terroristici molto gravi, soprattutto a Torino. Vengono uccisi Ulvio Croce, il presidente degli avvocati di Torino, e Carlo Casalegno, il direttore del quotidiano La Stampa. Il 1977 è l'anno del compromesso storico sul fronte politico, qualcosa che probabilmente andava fatto, ma che portò una serie di strascichi non indifferenti. La DC governa, grazie all'appoggio del PC, in sostanza, e il governo Andreotti si basa su una soluzione che, ad essere buoni, chiamiamo italiana, ad essere un po' più cattivelli, chiameremo bizantina, quella della non sfiducia. Il processo era iniziato molto prima, nel 1973, quando la paura di soluzioni, chiamiamole così, cilene, aveva indotto il partito comunista ed Enrico Berlinguer a trovare un accomodamento con la DC di Aldomoro, il quale aveva varato un neologismo destinato a rimanere nei libri, e forse anche negli annali dell'enigmistica, cioè le convergenze parallele. Fuori dall'Italia, in Cina, il partito comunista è pura la banda dei quattro, un gruppo di alti funzionari accusati di corruzione e abuso di potere, e li è pura alla cinese. Sul lato, un po' più così, a meno, da ricordare la prima sonda Voyager, una missione per esplorare il sistema solare esterno e trasmettere dati alla Terra, è il primo volo del jet Concorde, che comincia a fare voli regolari, segnando, chiamiamolo così, una pietra miliare nella storia dell'aviazione civile. Purtroppo in Romania c'è un grandissimo terremoto, più di 1500 morti, e per tutti i bambini degli anni 60 e dei primi anni 70, il primo gennaio del 1977 va in onda l'ultima puntata di Carosello, il programma televisivo che è andato in onda per vent'anni, a partire dal 3 febbraio del 57, con cui almeno, chiamiamole due generazioni di bambini, sono andati a dormire dopo Carosello. Muore all'età di 42 anni il grande Elvis Presley, the king, il re del rock and roll. A giugno del 77 esce il primo numero della rivista Cannibale, una rivista rivoluzionaria, ne abbiamo parlato in una puntata di tre punti, con un punto speciale dedicato a quell'avventura. Era un palinsesto di creatività e di rinascita, chiamiamola così, giovanile. Ci sentivamo tutti un po' cannibali in quel momento. Chiude dopo solo i nove numeri e lascia il posto a Frigider, anche lì una bellissima e straordinaria avventura. È anche un anno molto interessante per quanto riguarda la letteratura, dal punto di vista letterario. Ricordiamo la pubblicazione di Avere o Essere dello psicanalista Eric Fromm, che sdogana un po', se possiamo dire così, la psicanalisi da argomento cattedratico e un po' esoterico, e ne fa qualcosa di più divulgativo. Molti comprarono quel libro, credo che qualcuno lo lesse, non tutti certamente quelli che l'avevano comprato, ma fu comunque un'ottima operazione. Esce anche, postumo, come molti dei suoi libri, di Sipazio H.G., di Sipazio Humanis Generis, di Guido Morselli, che per me è e rimane uno dei, diciamo così, dei migliori libri della letteratura italiana del secondo dopoguerra, certamente nei primi venti. Se non lo avete mai letto, di Sipazio H.G. e non conoscete Guido Morselli, è sicuramente un'ottima, un'ottima carta di presentazione. Esce anche, è un anno, il 77, in cui la fantascienza la fa un po' da padrone. Fantascienza pura, da duri e puri, e fantascienza un po' più commerciale. Ma comunque, sia in letteratura che al cinema, la fantascienza la fa da padrone. Esce uno scuro scrutare di Phil K. Dick, per chi non lo sapesse, è il papà di Blade Runner. Esce Shining di Stephen King, che poi troverà una trasposizione cinematografica per la mano di Stan Kubrick straordinaria, un film che diventa un classico, e anche l'interpretazione di Jack Nicholson. Ma al cinema i campioni di incassi sono in contro ravvicinati del terzo tipo, diretto da Steven Spielberg, e il primo, Guerre Stellari, di George Lucas, un fenomeno culturale che dà il via a una saga che è popolare ancora oggi. Io non vidi Guerre Stellari, non sono un appassionato della saga, però era comunque qualcosa di estremamente popolare, ma non vidi Guerre Stellari nell'anno in cui uscì, lo vidi, vedi poi, a Bombay, in India, nel 1979, in un modo un po' particolare, in un'avventura che ho raccontato in uno dei miei libri. Esce anche Bianco e Nero a colori, il film d'esordio di Jean-Jacques Hanno, che vince anche l'Oscar per il miglior film straniero, Jean-Jacques Hanno è quello, il regista che poi conosceremo meglio, con L'orso, La guerra del fuoco, Il nome della rosa. esce Suspiria, un classico culto horror, marcato Dario Argento, ed esce La febbre del sabato sera. Il film che ha reso popolare, travolta, Tony Manero, è la disco music, e che fece anche esplodere il fenomeno, o riesplodere, perché era una seconda ondata, il fenomeno Bee Gees, ahimè. La finale della Coppa dei Campioni del 77 viene vinta per la prima volta dal Liverpool e batte in finale il Borussia Mönchengladbach, un Borussia Mönchengladbach che poi incontreremo anche noi nella stagione della Coppa Campioni e vedremo come. La curiosità è che già nella stagione 72-73 il Liverpool aveva battuto il Borussia in una finale, questa volta però di Coppa UEFA. E la storia si ripete, infatti il Liverpool vince 3-1, corsi e ricorsi della storia. Il calcio negli Stati Uniti raggiunge un apice di popolarità che forse poi non verrà ripetuto. A livello musicale, e qui siamo il paese di Ben Godi, tutti gli anni 70 sono il paese di Ben Godi, ma 75-76-77-78, penso che siano le punte di diamante di quel decennio. Così, tanto per fare una lista ex abrupto di cosa uscì nel 1977, allora in Italia, Aida di Rino Gaetano, Burattino senza fili di Bennato, Come profondo il mare di Lucio Dalla, Diesel di Eugenio Finardi, Carta straccia di Alberto Radius, Disoccupate le strade dai sogni di Claudio Lolli, I lupi di Ivan Graziani, Io, Tu, Noi Tutti di Lucio Battisti, Jetlag della PFM, La casa del serpente di Ivano Fossati, La pulce d'acqua di Angelo Branduardi, Samarcanda di Roberto Vecchioni, Terra mia di Pino Daniele, Una storia disonesta di Stefano Rosso. Adesso respiro. Dall'estero, Before and After Science di Hino, con quella straordinaria By the River, che fece anche da colonna sonora nella stanza del figlio di Moretti, Crosby, Steel & Nash, l'album eponimo, Death of a Ladies' Man di Leonard Cohen, Ha 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 degli Ultravox, Heroes and Low di David Bowie, J.T. di James Taylor, il primo disco solo di Peter Gabriel, Rocket to Russia dei Ramones, Rumors dei Fleetwood Mac, Running on Empty di Jackson Brownie, un pezzo del mio cuore è tutto lì, Some Girls degli Storms, Third dei Pavlov Dogs, eccetera, eccetera, eccetera. Tuttavia, come dicevamo all'inizio, erano anni di piombo, ma in quegli anni di piombo brillava l'oro, a Torino soprattutto. Era la Torino delle Brigate Rosse, ma anche di Pulici e Graziani, di Bettega e di Zoff. Pochi mesi che hanno, quelli di quella stagione calcistica, che hanno raccontato l'Italia, uno sport e una città più e meglio di qualsiasi trattato storico. In quell'anno si incrociarono su piano diversi la stagione del terrorismo e il campionato dei 51 punti, purtroppo, della Juventus e dei 50 per il Toro. Un cammino sportivo irripetibile, in un momento mai più ripetuto nella storia del nostro paese, con il calcio che racconta la vita e la vita che ha bisogno del calcio, se lo si ama, per essere ancora più intensa, ancora più profonda e magari passare 90 minuti senza l'angoscia di quello che succede fuori. Sì, perché fuori succede di tutto. Nel 77 a Torino ci sono le pistole dei terroristi e quelle dei carabinieri, le aste dei vessilli, ci sono i baffi del generale dalla chiesa e quelli di Claudio Sala e Causio, ci sono le mani degli operai che stringono cacciavite e chiavi inglesi e lavorano la catena di montaggio, ci sono la stella d'oro della Juve, lo scudettone del Toro, ogni giorno un attentato, un gambizzato, un morto ammazzato, abbiamo già ricordato Fulvio Croce, Carlo Casalegno, al quale sparò in testa Raffaele Fiore insieme a Patrizio Peci, è giusto che anche i nomi degli assassini non vadano dimenticati, feci poi che, confessando tutto al generale della chiesa, permise di chiudere in parte quella stagione nera e per questo i suoi ex compagni gli uccisero il fratello Roberto. Una pagina nerissima, non soltanto a livello politico e sociale, ma soprattutto morale. C'è anche la marcia dei 40.000 in una Torino che arrivò ad avere in quell'anno 1.300.000 abitanti, mi pare che oggi siano meno di 900.000. I funerali ininterrotti, il gol decisivo di Furino contro il Napoli, le parole di Piedone Raldo Peci che disse se noi del Toro avessimo fatto 60 punti su 60, la Juve ne avrebbe fatti 61. Grande ironia del nostro Piedone che nasconde come sempre un barlume di verità e c'erano anche le parole del supereroe Paolo Pulici che non l'ha ancora digerita. Chissà perché le nostre partite, disse, finivano sempre dieci minuti prima di quelle della Juve. Forse gli arbitri non regolavano bene gli orologi. Quindi c'è una nazione sotto scacco, una fabbrica, la Fiat avviata verso il precipizio, la corsa di due squadre che in poche centinaia di metri di città, in uno stadio solo, allora, il comunale, racchiudevano tutto quello che c'era di meglio nel calcio e non solo in Italia. Visto che in quella stagione nacquero le nazionali molto torinesi di Enzo Berzot, un'ex Granata, che così bene fecero poi ai mondiali del 78 in Argentina e in Spagna nel 1982. Dunque, per quanto riguarda la stagione specifico del toro, per la prima volta nella nostra storia la squadra Granata partecipa alla Coppa dei Campioni. Va ricordato che la prima edizione della Coppa Campioni si svolse sei anni dopo la tragedia di Suberga, quindi di conseguenza il traguardo aveva delle motivazioni che superavano, almeno per noi, il puro fatto di prestigio. Per affrontare la Coppa, Radice ottiene nella campagna acquisti il difensore Danova dal Cesena e il centrocampista Butti del Cagliari. Quel Danova che con la maglia del Cesena appare in una, forse la foto più famosa di Pulici quando realizza il gol dell'1-0 nell'ultima partita della stagione precedente. Dunque, in Coppa Campioni superiamo brillantemente il primo turno eliminando i campioni di Svezia del Malmo 2-1 e 1-1 e il sorteggio successivo ai noi ci riserva la brutta sorpresa di l'avversario probabilmente la squadra migliore d'Europa in quel momento il Borussia Mönchengladbach campione di Germania. Torino sbatte contro il muro dei Panzer e veniamo eliminati perdendo 2-1 a Torino una gara che meritava miglior sorte e facendo 0-0 in Germania una partita che si colorò anche di grottesco per certi aspetti. Bisogna dire che in quella doppio confronto gli infortuni di Claudio Sala e Pecci furono determinanti ma ci fu anche chi storse il naso per quanto riguarda le scelte di radice che alcuni e forse non a torto giudicarono un po' azzardate come l'inserimento di Sala per 20 minuti nella partita un Sala acciaccato che forse non doveva scendere in campo e l'iniziale esclusione del supereroe a favore dell'inesperto Garritano che di fronte al portiere tedesco tra l'altro si divora un gol importantissimo Garritano era un giovane puledro che scalpitava e voleva prendere così ritagliarsi il suo spazio cosa difficilissima con quei due là davanti ma ci provò non poco ed era così alcuni siparietti simpatici con Garritano io li ho anche vissuti perché andavo sempre allo stadio con un amico di famiglia insieme quasi sempre la mia mamma e questo signore qua era un notaio già attempato ai tempi e aveva una passione speciale per Garritano che non riusciva mai a vedere però cioè tutte le volte che lui veniva a vedere la partita Garritano o non giocava o era o faceva veramente pochissimi minuti e mi ricordo sempre il leitmotiv con cui mi diceva Turcotte encourageva Garritano e io non lo sapevo perché non è che ci fossero tutti i mezzi di comunicazione che ci sono oggi tante comunque nella gara di ritorno che tra l'altro giocammo a Dusseldorf il Toro non gioca male gioca combatte anche contro come dicevamo contro l'arbitro che risponde al nome di Delcour un arbitro belga che dava intendere o meno fece intendere di essere apertamente schierato con i con i crucchi fatto che il Torino non era molto abituato anche a frequentare certi palcoscenici personalmente credo che giocò anche molto la carta psicologica infatti cademmo nel gioco delle provocazioni e furono espulsi Caporali Zaccarelli e Castellini e finimmo la partita con il grande ciccio Graziani che si infila i guantoni e si esibisce nel ruolo di portiere tra l'altro fece anche una discreta parata se non vado errato comunque usciamo in modo un po' così bruciante dalla coppa dei campioni ma le illusioni sono più potenti dei sogni e le disillusioni più cocenti del dolore quindi una brutta avventura che tutti tentano di dimenticare tuffandosi nel campionato un campionato che ancora una volta ci vede combattere con l'altra squadra di Torino e appunto le illusioni sono più potenti dei sogni il sogno di ripeterci il sogno di ripetere l'impresa della stagione precedente non è soltanto grande ma questa volta è fondata se nella stagione precedente non eravamo partiti con i favori del pronostico quest'anno ci partiamo e come con i favori del pronostico favori del pronostico che sono ben fondati e giustificati il Torino era una macchina da gol oliatissima era una macchina tecnico tattica impressionante faceva paura e quindi sì il fatto che potessimo ripeterci e forse anche per questo che mi ricordo molto meglio quella stagione di quella precedente così a distanza di 50 anni e perché perché ci credevamo perché ci credevamo tutti fu una stagione esaltante comunque il massimo punteggio nella storia dei campionati a 16 squadre come detto come sapete la Juventus ne fece 51 noi ne facciamo 50 con miglior difesa miglior attacco e Ciccio Graziani che realizza capocannoniere realizza 21 gol senza nessun rigore 21 gol senza rigori Pulici si ferma diciamo così se così si può dire a 16 mi pare con due rigori di quella grande e straordinaria prestazione durante tutta la stagione di Graziani mi piace ricordare la tripletta di Ciccio contro la Sampdoria perché ma perché nei tre punti di Durruti tenendovi compagnia spero in modo intelligente mi lascio andare anche ogni tanto a qualche filo e qualche trama personale che vanno così a intramare le storie che racconto il 13 febbraio del 1977 a Genova faceva caldo ed era la prima volta per me che andavo in trasferta io le partite le avevo sempre viste a partire dal 1973 a Torino andavo ancora con la mamma e con un amico di famiglia e il 13 febbraio si decise tutti di partire e andare a Genova andammo a Genova con la 128 di mio padre c'era anche mio padre quella volta eravamo in quattro quindi pranzammo pranzarono io mangiai pochino allora avevo meno esigenze culinarie diciamo così perché oltretutto aspettavo con impazienza alle 15 ero abbastanza roso del nervosismo prima volta in trasferta prima volta a Genova contro i ciclisti e non contro il Genova allora il gemellaggio con il Genova funzionava quindi era un po' come andare così nella tana del lupo bevemmo un po' di vino me lo ricordo bene ero anche un po' un po' eccitato da questo ma l'eccitazione alla fine si convogliò nel modo migliore infatti vincemmo 3 a 2 in un modo molto più netto di quello che il risultato sembra testimoniare e cosa impressionante per me è estremamente significativa comprai la bandiera questa bandiera questa bandiera che ancora oggi mi accompagna la bandiera che poi io riportai a Genova in un'altra occasione e ho anche avuto modo di parlarne al concerto di Bruce Springsteen ma comprai la bandiera e con quella bandiera sventolata per 95 minuti il ricordo di quella giornata è un ricordo particolarmente significativo tra l'altro la tripletta che mi pare non fosse l'unica di Graziani in quell'occasione ne fece un'altra forse con il Cesena esattamente fu anche una bella tripletta che adesso magari andiamo a rivederci così per rinfrescarci la memoria e il cuore Granata se in Coppa Campioni avevamo subito delle delusioni in campionato la delusione coccente la subimmo all'ultima giornata quando non riuscimmo a coronare l'impresa nonostante tutti i numeri fossero lì per farlo mi ricordo che comunque gli Juventini furono la loro gioia fu incontenibile anche perché sapevano che avevano avuto a che fare con un avversario indomabile che non mollava mai e che gli aveva dato veramente molto 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 filo da torcere e poi come pensandola con Pulici magari se anche noi avessimo avuto qualche favore dalle giacchette nere chi lo sa la storia si poteva riscrivere ma tant'è non facciamo recriminazioni la storia non li merita soprattutto questa storia così bella comunque dicevo se il campionato ci dette quella quella amarezza finale anche in Coppa Italia comunque quell'anno non facemmo bene nella fase eliminatoria fece meglio il Lecce questa squadra che ogni tanto ritorna nei nostri archivi nei nostri annali per indicarci soprattutto delle delusioni fece sette punti contro i nostri cinque c'erano dei mini gironi per qualificarsi a quei tempi e per noi fu proprio fu fatale proprio l'incontro che disputammo a Lecce andammo sotto dopo sette minuti pareggiò Pecci sul finire del primo tempo ma nella ripresa beccammo il secondo gol e uscimmo tra l'altro abbiamo nominato più volte Eraldo Pecci in questo punto in questo escursus sulla stagione Pecci quell'anno subì anche un gravissimo incidente si fratturò si fratturò il perone c'è anche un filmato su youtube che riporta quel momento drammatico il dolore di Eraldo gli uomini della panchina che si che si affrettano e si danno da fare per farlo uscire e poi trasportarlo in urgenza all'ospedale e quella frattura quella quell'incidente è un po' anche l'emblema di tutta la stagione una stagione che avrebbe meritato miglior sorte avrebbe meritato miglior sorte nel campionato riscrivendo e scrivendo una storia di due scudetti consecutivi che non soltanto meritavamo ma che avevamo cercato con con l'ardore la voglia la capacità e l'intelligenza della coppia pianelli radice come come non mai meritavamo forse di più anche in coppa campioni ma giocarono brutti scherzi la disabitudine la poca abitudine a frequentare il palcoscenico internazionale e l'ingenuità del cadere nelle provocazioni e meritava forse anche che la coppa italia fosse trattata meglio interpretata meglio così non fu teniamoci nel ricordo quell'annata straordinaria e alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti